La questione è l'investimento di pedoni, incidenti stradali di diverso genere che vengono attribuiti principalmente all'utilizzo del cellulare, la causa e la distrazione. E su questo dobbiamo fare veramente molto, moltissimo. Tra i vizi degli automobilisti e aretini ancora una volta c'è l'uso dello smartphone alla guida. Il cellulare da una parte salva le vite davanti, quindi tutti quelli che ci passano davanti, ma salva anche noi stessi dalle conseguenze, dal dolore, da tutto quello che ne è in conseguenza. A disegnare la mappa degli incidenti registrati nel territorio provinciale e aretino nel 2021 è l'ACI, una mappa riferita ai circa 45.500 chilometri di strade principali, compresa la rete autostradale, uno studio capillare focalizzato sull'andamento nel 2021 rispetto ad un fenomeno che registra numeri in aumento con un totale di 420 incidenti, più di uno al giorno. Le strade sono sempre le stesse, qui esistono i fattori che rendono la strada più pericolosa o quant'altro, dipende dai carichi, dipende dai carichi intervoli dai tanti passaggi che ci stanno, perché questo genera un incremento della frequenza del rischio dell'incidente. Quindi su questo è la vera riflessione, è quella appunto che questo rapporto serve a tutti, alle istituzioni e a tutti noi per comprendere quelli che sono gli interventi da fare subito in questi contesti. Per quanto riguarda le strade più pericolose dell'aretino, Maia Nera, ancora una volta la regionale 71, dove si è verificato il maggior numero di incidenti, 111 sul totale di 420. Diciamo che le condizioni di estate pesano sempre. Su questa incidentalità è importante sottolineare come i fattori che generano l'incidente non siano tanto le condizioni della strada, quanto le condizioni di guida nella strada. Scendendo nel dettaglio, la maggior frequenza degli incidenti riguarda i tamponamenti 99 nel 2021, seguiti dagli scontri frontolaterali 88 in un anno. Preoccupano anche le cifre degli investimenti di pedone, nel 2021 sono stati 20 e i fuoristrada 44 in tutto, 14 poi gli impatti frontali registrati nello studio ACI e 18 gli incidenti mortali con 20 vittime.